Nino Frassica, chi è, età, carriera, chi la moglie, figli, film, foto e Instagram. Nino Frassica è volto assai noto della televisione italiana. La sua fama è dovuta sia alle sue interpretazioni come attore, ma prima di tutto come comico. Frassica è, però, anche un cabarettista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Ha fatto parte di diversi cast di successo e tra gli altri film l'ha preso parte a, Vacanze di Natale 91. Anno 90, Miracolo italiano, Baharia, eccezionale veramente e sei mai stata sulla luna. E oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone, dalla carriera alla vita privata. Nino Frassica, all'anagrafe Antonino Frassica, è nato a Messina l'11 dicembre del 1950. Dopo aver militato tre anni nell'arma dei Carabinieri, ha fatto ritorno a Messina. Sua città natale. Prima di diventare l'attore che è oggi, ha partecipato ad alcuni spettacolo teatrali nella sua terra. Nino si è fatto notare da Renzo Arbore grazie ad un eccentrico messaggio lasciato sulla segreteria telefonica. Il musicista pugliese, nel 1983, lo ha chiamato per interpretare la parte del tecnico di Teile Ottaviano e sempre con Arbore Nino ha partecipato nel 1985 al Varietà Quelli della Notte, nella parte di Frati Antonino da Scasazza. La comicità di Nino Frassica si basa soprattutto sull'elocchio surreale, il gioco di parole improbabili. Le frasi la palissiane, il discorso non sense. Uno dei suoi ultimi successi è la fiction televisiva Don Matteo. Cominciata nel 1999 è giunta alla dodicesima serie, con Terenz Hill, Flavio Insina e Simone Montedoro. In Don Matteo Nino interpreta il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini. Dal 2015, inoltre, fa parte del cast fisso di Che Tempo che fa. Ma ecco alcuni dei suoi successi al cinema e sul piccolo schermo. Nino Frassica nel 2018 ha sposato Barbara Exignotis, dopo una convivenza durata 10 anni. L'attore ha già un matrimonio alle spalle, l'ex moglie è Daniela Conti, un'attrice teatrale che Nino ha sposato nel 1985. I due però nel 1993 hanno deciso di divorziare. L'attore non ha figli. Nino Frassica ha un profilo Instagram e con l'account Ednino Frassica off vanta oltre 219.000 followers. Nino Frassica off vanta oltre 219.000 followers. Nino Frassica off vanta oltre 219.000 oltre 219.000